Il Miro Day nasce come prima edizione in memoria di mio papà Tino Colombo e poi successivamente alla morte di mia mamma Rosi abbiamo ovviamente dedicato a entrambi questi grandi personaggi del mondo della pesca queste giornate. L'idea è quella di in qualche modo ricordarli come erano perché sono stati due grandi personaggi nel mondo della pesca per motivi diversi, uno sicuramente per la grandissima passione innegabile e l'altra anche per la sua attività commerciale, sicuramente donna molto lungimirante io trovo perché mia madre è riuscita a far sua la passione di mio padre e a farla diventare un'azienda, tanto di cappello. Questa giornata per noi è una giornata per ricordarci sempre le nostre radici da dove siamo partiti e in più credo anche per rivivere un certo gusto, un certo modo di stare insieme che ormai si è molto perso perché l'agonismo è talmente coinvolto dal punto di vista economico che perde il vero senso della pesca, invece in questo giorno è bello, si respira proprio l'aria di queste persone che stanno insieme, non certo per il premio finale o altre cose. Il Milo Day impegna la ditta Milo e i suoi collaboratori per una buona settimana di lavoro, reperire i nominativi dei garisti, controllarli, inserirli nel computer, nel software apposito. Verrà fatto un sorteggio assolutamente trasparente e deciso dalla macchina e non dalle persone fisiche. Questo sorteggio verrà fatto la sera prima della manifestazione e sarà assolutamente tenuto segreto e questi risultati verranno esposti soltanto la mattina della gara. Questo lavoro deve essere svolto nel migliore dei modi e nella maniera più efficiente possibile in modo che la giornata della manifestazione sia soltanto una festa, una gioia e non ci siano intoppi di sorta. Ci tengo a ricordare che la Milo per questa manifestazione si avvale della consulenza e dell'opera di due pilastri, che sono Luigi Camarata e Bruno Frigerio. Buongiorno, ci stiamo preparando per la preparazione del Milo Day 2013, che quest'anno sarà caratterizzata da una nuova regolamentazione. Quest'anno i tre agonisti saranno dislocati in un lago differente e alla fine della gara si farà la somma dei risultati. Quest'anno avremo una partecipazione più massiccia da parte delle squadre estere, in particolar modo francesi, belgi, Steve Garner che verrà dall'Inghilterra e soprattutto un personaggio che si fa a 2.800 chilometri per essere presente e pescare con noi, che viene dalla Latvia. La premiazione sarà particolarmente corposa come d'abitudine, verranno premiati i primi e i secondi di ogni settore individualmente, per poi avere la premiazione finale, la più importante, di squadra. Le prime tre squadre con una coppia di panieri di alto livello e le altre squadre con materiale da pesca, canne, mulinelli e altro. Io userò senz'altro la nuova canna Red 50, la canna del cinquantesimo anniversario, una canna che ha delle caratteristiche di rigidità che sono ineguagliabili, quindi la ferrata prontissima, perché come si sa con la pasta bisogna essere particolarmente rapidi sulla ferrata. Io non sono un grandissimo esperto della pasta, ho provato pescarci soltanto nelle ultime due manifestazioni, quindi ho alle mie spalle 6-7 ore di pesca con questa particolare esca e quest'anno mi sono riproposto di continuare, di migliorare la mia performance avendo il suggerimento da parte di Gerard che è il maestro di questo attrezzatore. Io sarei soddisfatto se riuscissi a catturare 30 kg di pesce perché vedendo i risultati delle edizioni precedenti 30 kg ti potrebbero dare la pannaggio e la vittoria del settore. Buon giorno e buon giorno. sei contento del suo sorteggio? non tanto perchè c'è due esterni ora è in grande difficoltà perchè due esterni vediamo se si apparà alla fine della competizione a rimediare a questa insoddisfacità grazie mille guarda le lezze che vincono, guardali registrarci il nostro canale Quasi forti sono un settore specialmente su questo picchetto, e oggi cercherò di umiliare il grande milo. C'è un poisson a fare e poi c'è il bello, quindi dovrebbe essere battuto per arrivare a essere classi. Questa è una buona giornata, un super concours! La seconda volta che sono venuto il 2 anni fa, abbiamo solo due francese, Gérard, Valerio e Milo hanno vissuto, e noi abbiamo fatto il 3e. Questa volta, come ti parli? È super, è molto bene. Ciò è provato in Francia l'anno prossimo. Con molto piacere vengo qui perché questa è una gara importantissima per l'azienda perché più che una gara è una festa No, quest'anno è la prima volta perché l'anno scorso non abbiamo avuto occasione e quindi quest'anno è la prima volta Beh, l'ho organizzato bene, è una bella manifestazione Oh, super, c'è una super competizione, c'è un super plan d'eau con un po' di persone e un po' di poisson, c'è super Très, très bien, très, très bien organisé, très, très beau challenge Francese, bene? No, Lettonia Ma anche in Lettonia fate gare come il Mirodei? Yeah, ma solo in Lettonia solo in Fidera No, non è un po' differente in Francia perché non siamo così prati l'un di l'altro Bien sûr che siamo prati Ok J'espère fare il primo settore On se conosce tutti e c'è molto bene, è un bello tempo oggi E voi siete prati? Oui, siamo prati a attaccare le poisson 23, va bene? Per me con 23 si vince qua Ma credo poco qui, in questa posizione Spero tanti, non dico niente io Le previsioni si fanno la fine Fare il vizio è sempre un casino Speriamo di farne più di Gerard Perché è un nostro durissimo, non duro In chili? Sì Spero 30 Via 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 Io uso la Red Darkness, la canna di quest'anno, un'ottima canna affidabilissima anche per quanto riguarda queste pesche un po' importanti, un po' con parecchio peso insomma. Per me è difficile, troppo, troppo d'eau, non ho l'habitude. Musica 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 Grazie a tutti 10 carpe 10? 10 Andiamo bene? Abbastanza, una dozzina Abbastanza bene sembra, per ora Per ora Che canna usi? Sto usando un maranello Sto usando un maranello Sto usando un maranello Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è in plaats di buttare ma io vedo che Milo è durato quindi super non mi regretta di essere venuto la stampa la stampa e diciamo che questa qui è una canna abbastanza specifica per la pesca alla carpa per fare questi tipi di pesca in questi laghetti perché è una canna molto robusta non è che ripassi lo sai che quando arriva appunto il problema è miglior questo è il problema come in apprezzate è 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 aspetta eh stai facendo un po' il cinema però ma è uscita fuori dal Guadini è 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 allora per me 24 e 00 è è è è è è è è 21 580 21 580 21 580 19 360 19 360 scusi 27 400 21 minuto 21 minuto 16 920 20 20 2 kg non pensavo brevi 15.380 per darsi è 7.920 vai 20 questo è uno dei più grossi campioni di pesa che la campagna ci ha mandato al nord ci ha mandato anche un megatopo, la campagna ci ha mandato anche un megatopo la campagna campagna al nord, è un ragazzo eccezionale purtroppo i pesci non sono tanto d'accordo con lui sul fatto che possano mangiare a suo amo, però lui ce la mette sempre tutta e tanto impegno, è vero. Oggi pescavamo a Fider. Facciamo vedere la nuova collezione delle Roubaisienne che la Dozza Vita presenta per la prossima stagione. Sì, è fantastico, molto stifo, molto stretto e molto piccolo. La cosa che l'ho impressiona di più è il diametro della canna e la progressione che ha in fase di ferrata, sale un corpo unico e quindi soltanto la punta si muove, è estremamente bilanciata, soltanto 42 mm di diametro, molto più sottile della precedente. Ho due, per favore. Ne ho ordine due oggi, direttamente sul posto. Sì. È molto stretto. È molto stretto, Milo. Nel drop, niente. Nel sac. No. 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 No, è un nuovo forzoglotto. Ok. Ok? Io so che questo è buono e questo mi sento migliore, quindi è fantastico. Tre davvero buoni prodotti Milo, molto buoni prodotti. Grazie, grazie. Ci sono tre meravigliosi prodotti, quindi speriamo che la prossima stagione i nostri agonisti si possano fregiare di questi prodotti. Grazie Stevie. No problemi Milo. Terzi, Team Milo Longobardi, Tranchier, Nadal e Milo. Dossiamo l'equipe. Team Milo Belgique, Jospin, Guimaraes e Camilletti. Sono gli stessi vincitori dell'anno scorso che si ripetono ancora, quindi la classe veramente si manifesta. La squadra dei Robiesi. Franzoni, Gavuglio, Gavuglio. Bravi, bravi. Complimenti. Complimenti. Allora, un ringraziamento che dimenticavo alla grande e ineccepibile organizzazione dell'indomabile Cammarata. E della, naturalmente, della famiglia Frigerio, senza l'attuale. Eh, ci sta l'indomabile. Spaccapalle, ragazzi. Non è vero, non è vero, nego. Grazie. E benvenuti all'anno prossimo. Grazie a voi della presenza. Grazie a voi.